Giacomo e Pietro Colonne del Collegio Apostolico, così li chiama San Paolo che li va a visitare tre anni dopo e dopo altri 14 anni. Questi sarebbero i migliori, se questi sono i migliori figuriamoci gli altri, dov'è il loro errore? Il loro errore è il nostro, ce l'abbiamo tutti dentro, ovvero essendo loro in una posizione particolare tutti i giorni avevano le confidenze di Gesù. Era il gruppetto di testa, anche perché Giacomo, o meglio Giovanni, insieme ad Andrea, fratello di Pietro, sono stati i primi discepoli. Giacomo è tirato subito dentro da Giovanni perché era il fratello, poi Andrea con Giovanni tirano dentro Pietro, sono i primissimi. Poi vengono gli altri, i primi hanno sempre un rapporto diverso, più forte, ma sono primi anche perché Gesù vuole che siano tali. E allora passare ogni giorno con Gesù e sentendosi sempre in una posizione diversa rispetto agli altri, è chiaro che dentro entra un'idea, prima io poi gli altri, io sono più importante degli altri, se sono più importante qui, quando tu sarai nella tua gloria, difficile da definire cosa aveva essere in testa loro come gloria, ma è la gloria dei cieli, vuol dire il potere assoluto. Ricordati di noi vogliamo stare uno alla destra e uno alla sinistra. E c'era anche la mamma che spingeva con questa idea, cioè l'orgoglio della mamma è infinito, anche nelle persone migliori. Ma questo è un modo di ragionare del mondo. E chi non vorrebbe il proprio figlio messo nel posto migliore? E chi non vorrebbe, stando in un gruppo di migliori, essere il migliore dei migliori, e non avere la considerazione più forte, più grande da parte di Dio, un riconoscimento per ciò che si è? O per ciò che si vorrebbe essere? E Gesù dice, nel mondo le cose vanno così. Ci sono i capi e ci sono i sudditi, ma il mondo è governato da questa logica che voi, non vi accorgete, usate come identica. Chi è capo alla fine pensa sempre di essere più furbo, più forte, più potente, quasi immortale, c'è chi si idolatra, eccetera. Ma soprattutto, avendo le leve del potere, si dimentica facilmente degli altri. Quindi Gesù dice, i capi governanti delle nazioni dominano su di essi, i capi le opprimono, è un dominio, un'oppressione. Non c'è mai giustizia. Gesù non dice agli Apostoli, siate come i capi delle nazioni, ma più moderati. Non dice dominate con giustizia ed equità, neanche questo. Oppure governate con dolcezza, neanche questo. Eppure molti che sono capi e sono dentro la Chiesa pensano, si immagina che pensano questo, essere equanimi, eccetera. Ma in realtà Gesù va ancora più in profondo e dice, chi vuole essere grande si umigli qua sulla terra. E chi è che si umiglia? Anche da chi, avendo l'autorità che Cristo dà di capo, si prende gli insulti, le non comprensioni, tutte le azioni contro, le ribellioni e tutte queste cose, e non sottomette gli altri, né con l'autorità, né con la violenza, ma cerca di condurli là dove devono arrivare, che è il Regno dei Cieli. E questa attitudine noi non l'abbiamo dentro. Non l'abbiamo dentro. Per cui basta salire un gradino in più, anche nei lavori più umili. Ho avuto esperienza di questo, non voglio raccontare, ma delle cose che mi facevano ridere, perché erano lavori manuali di infima importanza. Ma quello che aveva un briciolo di riconoscimento in più, diventava immediatamente un dominatore. E mi diceva, cosa pensi, dove pensi di essere. E immaginavo, ma se questa persona che adesso qui nel lavoro più umile, non sto neanche a raccontare di cosa si trattasse, si sente già un capo di governo, se fosse un capo, che cosa farebbe? Un capo vero, uno che ha potere sulle masse, no? Che cosa farebbe? Siamo tutti così, nel senso che questa cosa viene fuori come un virus. Questo è il virus, il male, il spirito del mondo. Allora Gesù chiede ai suoi, lo chiede prima di tutto a quelli della Chiesa, i sacerdoti dall'ultimo fino sul primo, sia non come questi, ma sia il servo di tutti. È un'attitudine a servire. Non è semplicemente mi occupo, sono in ufficio, ascolto, sì, benissimo, abbiamo fatto. È un'attitudine di uno che non conta niente neanche agli occhi degli altri. È uno che non è considerato, che può essere schiacciato da tutti pur avendo una grande autorità. Ma uno si deve far rispettare. Se sei diventato questo, devi avere una macchina lunga da qui all'alto, un ufficio deve avere una scrivania che deve essere 8 metri, e la poltrona, la poltrona è importante, infatti si usa sempre la poltrona come luogo di comando, eccetera. E tutti i segni del potere devono essere rispettati, altrimenti chi non ce l'ha subito cerca di calpestarti. Perché Gesù chiede questo? Perché la via di governo che lui ha nella gloria è una via nella carità, che è quella di Dio Padre, e che passa qua sulla Terra per il contrario di quello che è il mondo. Servizio arriva al sacrificio di sé sulla croce. Il battesimo con il quale io sarò battezzato, volete essere battezzati, sapete che battesimo è? Qual è il battesimo di Gesù, se dovessimo chiederlo? E' il proprio sangue che scorre fuori e non è un'immersione nell'acqua, è un'immersione nel proprio sangue che scaturisce dalle ferite inferte con la flagellazione, i chiori della croce e poi la lancia. Il bagno nel proprio sangue. Siete disposti? Voi che volete fare i capi? E' una domanda che dobbiamo chiederci, ma se mi fosse detto bene, tu sei scelto per essere capo, benissimo, adesso ti diamo un po' di tempo per prepararti e adesso sali sulla croce. Che non è la croce per modo di dire, è una croce che ammazza. Quanti sarebbero disposti a diventare capi? Chi è che è disposto a diventare responsabile quando c'è il pericolo che incombe? Molti sono scappati. Allora, il figlio dell'uomo è venuto non per farsi servire, quindi l'attitudine non è del dominio, potendolo fare, ma il regno di Dio è basato su un'altra cosa e per dare la propria vita in riscatto per molti. Mi rendo conto che questa parola, riscatto, poco usata e poco amata dai teologi oggi, ma è l'angelo e poi ben spiegata da San Paolo. Riscatto vuol dire che io pago un prezzo per liberare qualcuno che è prigioniero e il prezzo è dato con la vita propria. prendi me al posto suo, salvo l'acquisto, fucilate me al posto di questi. Medaglia d'oro, ma anche martire. Riscatto, redimere, la parola redimere vuol dire ricomprare. Ricomprare qualcuno che è di proprietà di un altro, che è sotto il potere di un altro, che non è anche sotto il potere del maligno. E perché il maligno ha dei diritti sull'umanità? E li abbiamo ceduti noi col peccato. Hai peccato? Stai seguendo me. Dunque adesso io sono il tuo capo. Lì c'è il dominio con l'inganno e poi il potere che schiaccia. Sì, ma adesso ho cambiato opinione. Voglio convertirmi, non ti voglio più seguire. Provaci e tira la catena. Fa cadere in peccati peggiori e via di questo passo. Siamo prigionieri. Dare la vita in riscatto vuol dire che c'è qualcuno che è più forte, rompe la catena e poi deve pagare un riscatto a chi? Non al demonio. Al padre, perché ogni peccato commesso va contro Dio che ha fatto il mondo e le persone in un certo modo e le quali invece si comportano in un altro. Quindi sono qualcosa che va a ledere le proprietà e i diritti di Dio. Il riscatto vuol dire che se si fa qualcosa di male bisogna riparare. Non basta dire mi dispiace. Bisogna riparare. C'è qualcosa che va dato in cambio di... c'è una bilancia. E noi non abbiamo questa capacità di bilanciare con le buone azioni i nostri mancamenti, i nostri peccati. Tantomeno quelli degli altri. Solo il Cristo ha un sangue che ha un peso diverso. perché tutta la sua offerta al padre è fatta con amore e per amore c'ha solo da rimetterci solamente per riscattare degli uomini che siamo noi che non lo meritano. L'ultima parola. Perdono a costoro perché non sanno quello che fanno. Come dire guarda il mio sacrificio padre per loro non stare a guardare loro. Se andiamo a vedere sono tutti quanti da inferno. Ma io li metto sotto il mio mantello e il mio mantello rosso di sangue. Ho lavato le loro vesti sporche le peccate nel mio sangue i 144.000 vestiti di bianco che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello. Dunque non guardare il loro peccato guarda il colore del mio sangue che li ricopre. Io li ricompro se ti è gradito il mio sacrificio. Il padre guarda il figlio e dice per il tuo sacrificio tiriamo dentro questi qua che non se lo meriterebbero. Ma io ho mandato te per loro e l'unico sforzo che devono fare è riconoscere che hanno bisogno di essere ricomprati cioè redenti perché di loro non meriterebbero niente. Quindi se non sono grati a te io non li prendo. Rifiutare il figlio di Dio e il suo sacrificio vuol dire rifiutare la redenzione. Oggi la cosa più difficile ma anche così mi fermo a parlare con le persone la cosa più difficile è chiaramente la nozione di peccato pecco, pecco contro Dio chi l'ha detto va bene è scritto non è che qualcuno l'ha detto ha scritto il Vangelo e l'ha detto il Cristo ma anche questo bisogno di essere redenti questo bisogno di qualcuno che paga per le nostre colpe perché noi non abbiamo questa abilità questa capacità in termini monetari non abbiamo questo capitale per autoliberarci uno schiavo non riesce mai come uno che incappa in un usuraio non si libererà mai da solo perché ogni colpa viene moltiplicata per cui lo scopo è quello di mantenerlo sempre sottomesso e questa idea di essere debiturio a qualcuno e di aver bisogno di qualcuno che ci libera e ci ricompra col suo gratuitamente non va giù a nessuno perché noi non vogliamo avere a che fare con nessuno non vogliamo dover essere grati o debitori a qualcuno io mi libero da solo io ci sto lavorando mi miglioro da solo sì ma non ti dai la vita eterna vai nella fossa e non ne vieni fuori da solo perché non sei in grado di vincere la morte uno l'ha vinta e dice se mi segui nella morte ti tiro il suo anche per la risurrezione ma devi ammettere che hai bisogno devi avere questa umiltà allora la misericordia di Dio è veramente funzionante è qualcosa di spaventosamente larga come il mare rispetto alla goccia dei nostri peccati ma se noi non li riconosciamo come peccati e che abbiamo bisogno di essere lavati da Lui questa enorme immensa misericordia rimane inattiva per me perché non la voglio non la cerco la rifiuto faccio da me soprattutto non sono poi così male come si dice questo è il problema no? allora la nostra preghiera di misericordia come la coroncina della misericordia dice proprio questo per il mondo intero abbi misericordia di noi e per il mondo intero noi che cosa chiediamo? la nostra non è la preghiera del giusto la nostra è la preghiera degli ingiusti che però sono stati redenti e allora diciamo con tutti gli altri santi tu che hai redento noi ti preghiamo estendi questa tua misericordia anche su questo questo e questo non perché è mio parente o mi è simpatico perché altrimenti sarebbero destinati all'inferno e una madonna a non a Meggiugorio ma a Fatima ai bambini mostrò l'inferno e mostrò quanti anime vi precipitavano dentro fitte come la nevicata d'inverno disse i bambini dice vedete quanti anime si perdono perché non c'è nessuno che si sacrifichi e preghi per loro due cose pregare e sacrificarsi non è la stessa cosa che dice qua anche voi dovrete fare quello che io faccio servire sacrificarvi oltre che pregare quello che noi facciamo uniti a Cristo diventa accettato al Padre perché siamo uniti a Cristo perché la nostra manovra di aiuto e redenzione degli altri è assolutamente insufficiente uniti a Cristo diventiamo parte di un corpo potentissimo che può redimere gli altri poi diciamo ce l'abbiamo fatta in realtà è Cristo che ce l'ha fatta ma noi come quando guardiamo le partite diciamo abbiamo vinto abbiamo fatto gol noi stiamo davanti a un televisore poi sono gli altri che giocano e che faticano dopo diventa un plurale in cui tutti quanti ci sentiamo dentro come se avessimo fatto chissà quale sforzo e l'esempio torna perché lo sforzo l'ha fatto il Cristo ma noi giochiamo la partita con lui e con lui vinciamo perché lui ha già vinto se lo ha dato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti